Cari amici, come mai sapete per me il colore è fondamentale, ma è altrettanto importante sapere individuare il prodotto più adatto per specifiche esigenze del committente. Le vernici in commercio hanno infatti caratteristiche diverse e rispondono alle più svariate necessità. Vi ricordate il primo episodio dell'ottava edizione di Cambio Casa Cambio Vita? Angela, la mia committente, aveva ben tre figli e una grande passione per la cucina. Per questi motivi mi ha chiesto una soluzione che le permettesse di proteggere le pareti della zona giorno, più esposte alle macchie di unto e di sporco, ma anche di poter smacchiare i muri dalle camerette dei bambini che amavano disegnare. La scelta di Intacta è stata strategica. Il prodotto, realizzato da Covema Vermici, è stato studiato per semplificare la manutenzione delle pareti di tutti gli ambienti domestici. Una pittura super smacchiabile e di facile applicazione. Oltre ad aver semplificato la vita di Angela, il prodotto mi ha consentito di ottenere un gran risultato anche dal punto di vista estetico. La vernice, infatti, una volta stesa, si presenta opaca e dona all'ambiente un effetto molto raffinato. Tantissimi colori disponibili! Nel caso di Angela ho scelto un grigio volgente, proprio come questo, per l'ingresso e alcune pareti della zona giorno, mentre ho preferito una nuance più chiara per il soffitto e altre pareti della casa. E voi cosa vi aspettate da un prodotto verniciante? Aspetto i vostri commenti! Ciao!